Le truffe danno delle persone più fragili, come gli anziani, non sono mai mancate. Ma ora, con l'emergenza in atto, c'è qualcuno che si approfitta per spillare soldi alle persone più ingenue e in buona fede. A scrivere, sono la CGL SP Pesaro Urbino. Infatti è stato riferito di persone che stanno rubando soldi chiedendo offerte a nome del sindacato per aiutare a fronteggiare l'epidemia con un aiuto in denaro. Le persone suonerebbero il campanello e chiederebbero degli aiuti incontanti. È accaduto al momento a Fano, ma potrebbe accadere anche in altri comuni. Per questo l'invito da parte dei sindacati a tutti è di non aprire la porta a nessuno, in quanto SPI e CGL non hanno mai raccolto soldi in questo modo. Diffidiamo chiunque usi le nostre sigle, chiedono, per estorcere denaro e invitiamo le persone che sono state raggirate a segnalare gli episodi e denunciare il furto a carabinieri o polizia.